Come gruppo abbiamo deciso di astenerci dalla votazione perché non siamo stati in grado di reperire e di discutere, quindi una memoria storica in grado che ci permettesse di ottenere un voto responsabile, di dare un voto responsabile su questo argomento. Per cui sempre massima attenzione a quello che verrà fatto da questa amministrazione e massima collaborazione, questo è un voto di astensione su comunque un aspetto tecnico del quale non ci sentiamo responsabili. Le riflessioni che la maggioranza ha fatto sono riflessioni da prendere in considerazione ma con grande cautela perché mi pare di poter dedurre che ci sia una forte pressione sull'acceleratore dei possibili tagli e se questo in qualche caso è dovuto non altrettanto però è sui servizi sociali, i servizi alla persona, i servizi comunque che il territorio di Clusone ha espresso come eccellenza nei passati anni. È ovvio che ci sono anche considerazioni politiche, le difficoltà dell'ente locale Clusone sono quelle di tutti gli enti locali, quindi non è diverso rispetto a quello di altri comuni e credo sia anche dovuto a quella politica accelerata che l'attuale governo sta facendo e che sicuramente mette sempre più in ginocchio gli enti locali. Questo però non significa che gli amministratori intelligenti devono quindi mettere le mani nelle tasche dei cittadini a livello locale per sopperire ai problemi dello Stato. Andiamo a tagliare sulle spese correnti dove è possibile tagliare. Io ho proposto per esempio di tagliare sulle spese di tutti gli amministratori perché il servizio che facciamo è un servizio per la comunità e dovrebbe essere fatto gratuitamente. Ho chiesto di tagliare sulle spese del personale perché non necessariamente si deve sempre, quando un personale va in pensione e sostituirlo, se quel servizio si può comunque coprire con risorse e professionalità interne.